Ciao a tutti da Diego di TecnoFall.it Oggi vi mostro un accessorio che spesso e volentieri vi serve quando non ce l'avete perché si tratta di un endoscopio digitale con un cavo con telecamera lungo un metro resistente all'acqua che serve per andare a ispezionare varie cose a partire dal classico scarico del lavandino quando si finisce dentro un oggetto oppure andare a vedere dentro motori ovunque diciamo c'è un buchetto per infilarci dentro il tubicino con la telecamera andiamo ad aprire la confezione è un prodotto che ha un rapporto qualità davvero molto buono un prezzo che uscita dai 60 ai 70 euro su Amazon l'azienda è Homie e adesso vi faccio vedere il contenuto della confezione abbiamo innanzitutto qua nella scatoletta a parte tutti gli accessori accessori che sono davvero fondamentali nel caso dovessimo recuperare qualche oggetto perché abbiamo una comodissima calamita che va attaccata al tubo e poi fissata con questi cilindretti abbiamo poi uno specchietto per vedere a 90 gradi abbiamo due gancetti un gancetto doppio e un gancetto singolo per andare a recuperare gli oggetti e poi basta questi sono gli accessori questo è il tubo tubicino flessibile molto resistente come ho detto è IP68 quindi nessun problema acqua olio eccetera eccetera resiste a tutto e questo è il nostro endoscopio vedete è davvero ben fatto è in materiale plastico viene alimentato con quattro pile stilo che non sono incluse nella confezione quindi andranno comprate a parte qui abbiamo tutti i comandi a portata di dito e c'è anche la possibilità di o meglio vi consiglio di inserire una micro sd perché scatta e registra i video li va a salvare direttamente nella micro sd la risoluzione inattiva è 640x480 ma con interpolazione arriva a fare foto e video in hd adesso lo andiamo ad installare è davvero molto molto semplice basterà mettere la parte con questo gancetto in alto basterà spingere e poi bisognerà andare ad avvitare in modo che la guarnizione vada a chiudere completamente e a questo punto non ci resta che accenderlo libera un pochino il piano come per magia eccoci qua e adesso andiamo a vedere come funziona allora davvero molto molto semplice per accenderlo bisogna tenere premuto il tasto che vediamo con il classico segno di accensione in basso a sinistra vedete si avvia ed è assolutamente subito pronto adesso vedete sta inquadrando la mia fotocamera possiamo ruotare l'immagine guardiamo se ci riesco vedete ci sono quattro modi diciamo di rotazione in modo da raddrizzare quello che stiamo inquadrando abbiamo la possibilità di registrare un video come in questo caso vedete è partito il conteggio del video adesso sta registrando un video ok e possiamo scattare la classica foto vedete quando viene fuori il simone della foto vuol dire che ha scattato la foto per rivederle basterà premere il tasto centrale il tasto centrale viene fuori questo menu video e foto dove è possibile muoversi con queste vedete questi tastini andiamo su foto premiamo il tasto ok che è questo ci viene tutta la lista delle foto andiamo ok e vedete che ci fa vedere l'ultima foto che abbiamo scattato premendo gli altri tasti ok premendo l'altro tasto possiamo scorrere avanti e indietro con questa simpatica anche transizione vedete di effetto premendo il tasto menu si torna indietro e poi abbiamo la possibilità anche di vedere i video questo è il video che ho registrato prima come ho detto la risoluzione è in HD non è una grandissima risoluzione però comunque ci permette di individuare magari un oggetto o qualcosa diciamo che abbiamo perso abbiamo poi quando siamo nella modalità diciamo di visualizzazione la possibilità di accendere il led che è davvero molto comodo led che ha otto livelli di luminosità ci sono quattro led vedete che veramente ci permette di andare a illuminare la zona incriminata pro e contro di questi led essendo led fa una luce fredda quasi blu quindi se andiamo a illuminare ad esempio una zona un pochino chiara avremo tantissimo riflesso e quindi non riusciremo tanto a distinguere diciamo magari i colori però quello comunque magari a volte non può essere un problema ma però comunque sappiattilo che magari se dovete distinguere dei colori con il led difficilmente riuscirete a capire di che colore è però ad esempio se dobbiamo guardare dentro il classico tubo del lavandino oppure per vedere se dentro qualche motore o un punto dove non riusciamo ad entrare assolutamente con questa telecamera riusciamo tranquillamente a vedere cosa succede la messa a fuoco è a circa un centimetro se ci avviciniamo di più non riesce proprio a mettere a fuoco benissimo però devo dire che nel complesso funziona davvero molto molto bene allora se siete interessati all'acquisto io sinceramente ve lo consiglio perché come ho detto ha un ottimo rapporto qualità prezzo lo trovate su amazon eccolo qua si chiama homie abbiamo la versione sia con slot per la micro sd che senza io chiaramente vi consiglio di prendere la versione con la micro sd e come vedete adesso ha un costo di circa 70 euro io vi consiglio sempre di aggiungerlo nella lista dei desideri perché ogni tanto vanno in offerta lampo e chissà magari lo trovate e quando va in offerta lampo vi arriva la notifica se siete interessati comunque il link per la spedizione lo trovate sotto al link come ho detto io mi sono trovato bene lo trovo diciamo un ottimo compromesso se vi serve per lavoro quindi ragazzi che dire questo endoscopio mi ha convinto ciao da Diego